Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A11 fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato tra il Bivio per la 12 e il Bivio per Viareggio in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Sulla regionale 429 Valdelsa per lavori di sicurezza di vieto di transito dal chilometro 12 al chilometro 17. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!